Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Il centro Margherita di Fano che si occupa dei malati di Alzheimer è ancora chiuso enormi disagi per le famiglie che non riescono più a gestire la situazione duro sfogo contro i politici della regione del dottor Maglio Perboni che vive in famiglia il disagio della moglie La città che cambia, iniziati questa mattina i lavori di costruzione della nuova rotatoria in via Pisacani dove un tempo sorgeva l'ex mulino Albani Sì della giunta regionale, la mozione della Lega per la salvaguardia e la riattivazione della vecchia ferrovia Fano-Urbino La superstrada Fano-Grosseto è stata inserita tra le opere prioritarie del governo Ai microfoni di Occhio alla Notizia appare il deputato Roberto Rossini del Movimento 5 Stelle Vi presentiamo Cristian, l'uomo dal cuore d'oro e dagli anticorpi di ferro Per la seconda volta in due mesi ha donato il suo plasma iperimmune per guarire le persone malate di coronavirus Il suo, un caso piuttosto raro in Italia E' lui la speranza del basket pesarese Si chiama Carlos Delfino ed è il nuovo giocatore della Carpegna Prosciutto Fano-Tv lo ha intervistato stamane al termine della conferenza stampa di presentazione Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia Tra coloro che si battono per la riapertura del centro Alzheimer Margherita di Fano C'è anche un medico stimato conosciuto a Fano Il dottor Malio Pierboni che vive questo dramma in famiglia con la moglie Il dottor Pierboni ha scritto una lettera al presidente della regione Marche Luca Ceriscioli Non ha avuto risposta, noi oggi l'abbiamo intervistato Vediamo il servizio di Simona Zonghetti Non mi interessa a me spendere i soldi Voglio che il mio amore stia bene La vesto bene, la mando al porcchio tutte le settimane Anche l'aspetto non deve essere un aspetto così degradante Perché sono pazienti che dimagriscono Pazienti che perdono la massa grassa Per cui bisogna avere rispetto per queste lezze E non c'è rispetto da queste lezze E sono solo pronti a fare le cene, le conviviali Quando è ora di andare a votare, a cercare il voto E questo è un'indecenza È arrabbiato e deluso Maglio Pierboni Medico chirurgo, specialista in ortopedia Medicina dello sport e fisioterapia Noto e stimato in città Il dottore da mesi si batte per la riapertura Del centro Alzheimer Margherita Chiuso da marzo a causa della pandemia Pierboni assiste alla moglie Adriana di 79 anni Che già nel 2016 aveva avuto i primi sintomi della malattia Durante il periodo del lockdown Le sue condizioni si sono aggravate E il medico ha deciso di farsi aiutare Da quattro donne per assisterla Una situazione diventata difficile Sia dal punto di vista fisico che psicologico La quale potrebbe essere risolta O almeno migliorata Con la riapertura del centro di eccellenza regionale Però a causa delle norme anticontagio Si dovrebbe eliminare servizio mensa Ridurre il numero di persone Che frequentano la struttura E aumentare il personale E le spese straordinarie Tra cui quelle per la sanificazione Sarebbero fondamentali Quindi le risorse Per far fronte alle tante necessità E restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria Ma ad oggi la cooperativa Che gestisce il centro La labirinto È ancora in attesa Che la regione batta un colpo Mi sto battendo anche a livello locale Con i politici locali E che mi si risponde Che non hanno la possibilità di fare niente Perché è di competenza Prattamente regionale Quindi io mi trovo in una situazione Mi sembra a casa mia Un campo di battaglia Cosa vuol dire? Che praticamente mia moglie È insufficiente Ingestibile Sono costretto A mettere i divani Nei punti in cui La casa è pericolosa Dove lei può salire le scale Scende le scale Nasconde tutto Non si rende conto Di quella che può essere questa malattia E io onestamente Ho fatto il medico Ho fatto il chirurgo E mi rendevo conto Quando queste poverette Operate di femore Urlavano durante la notte Chiamando la mamma Chiamando la sorella E veramente Mi scusi È una situazione molto delicata E difficile Difficile Per cui Ecco Si danno delle possibilità Dei calmanti Ma i calmanti Praticamente Agivano durante la giornata Non durante la notte Sono persone estremamente difficili Da gestire Prosegue il dottore Che ha scritto anche Al presidente della regione Marchi Assessore alla sanità Luca Ceriscioli Ma senza ottenere risposta Io credo che Un cittadino marchigiano Abba il diritto Di avere una risposta Da questi personaggi Io sono contento Che Fano TV Mi abbia intervistato Perché Mi sto lottando da solo La struttura È in degrado È in totale stato di abbandono Prosegue il medico E la stanno lasciando morire È una struttura Creata Dalla fondazione Passo lì davanti Per vedere Se è funzionante Mi accorgo Che c'è l'erba Altro un metro Pulmini fermi lì Io mi sono fermato Anche a suonare Nessuno risponde Ho dedicato a Fano La mia passione Che era lo sport Gratis Non ho mai preso una lira Va bene Quindi Io da un punto di vista Morale e sociale Credo di essere a posto E Incito Soprattutto Anche I politici fanesi E sappiamo Che occupano Delle posizioni Abbastanza importanti In regione Sono solo pronti A andare a tirare Il nastro Per inaugurare qualcosa Non l'ho sentito Non l'ho sentito Da parte di questo signore Una minima Benché minima parola Di supporto A questo centro I politici Afferma il dottore Non si rendono conto Della gravità Della situazione A farne le spese Non è soltanto Chi è affetto Da questa malattia Invalidante Ma sono anche familiari Io sono calato Dei chili Io mi sono preso Una colita emorragica Che stai qui Seguire giorno per giorno Io sono mio Mi chiamo il cantaguardia Mi chiamo il cantaguardia Perché ogni Qualsiasi Momento Devo guardare Marvando dove sei Dove sei E poi Sono diventato Un conventuale Scusi il termine Conventuale Non mi muovo più Di casa Perché? Perché non ho più Interessi Non ho più stimoli Non ho più mordente Per cui questa gente Qui ti uccide Anche psicologicamente Questa è la bruttezza Di questa malattia Nei prossimi giorni Ci spiega il dottor Pirboni Mi incontrerò Con le persone E i familiari Che sono nella mia Stessa situazione E se sarà necessario Parlerò Nelle sedie opportune Il tribunale Io credo soltanto Estrato 262 chili Sospensione della licenza In caso di condanna Inoltre al commerciante È stata elevata Una sanzione amministrativa Da 6.000 a 30.000 euro Perché era sprovvisto Del registro Di detenzione Degli esemplari Tutelati Dalla convenzione Di Washington Sono 21 I casi Positivi Al coronavirus Registrati All'hotel House Di Porto Recanati Dove era stato Individuato Un focolaio Di questi Sette Sono stati Dichiarati guariti Con il doppio Tampone negativo Il Gores Ha comunicato Che in totale Sono stati eseguiti 1024 test Nel condominio Multietnico Mentre Un altro caso positivo È stato segnalato In provincia Di Ascoli Piceno Anche oggi Non si registrano Decessi E sono partiti Questa mattina I lavori Per la realizzazione Di una nuova rotatoria In via Pisacane Nella zona Dove un tempo Sorgeva L'ex Mulino Albani Il servizio Di Filippo Pucci Nei giorni scorsi Il vice sindaco E assessore All'urbanistica Di Fano Insieme ai dirigenti E ai tecnici Hanno fatto visita Al cantiere Nell'area Dell'ex mulino Albani Per monitorare Lo stato di avanzamento Dei lavori Sia della parte Edilizia Che delle opere Di urbanizzazione Questa mattina Invece Lungo la statale Nella zona Della caserma Dei carabinieri E dove a distanza Di qualche mese Aprirà Un nuovo centro commerciale Lavori in corso Per la realizzazione Di una nuova rotatoria Che collegherà In sicurezza Via Carlo Pisacane Con via Vittorio Veneto Alleggerendo così Il traffico Lungo via Ruggero Mariotti E le vie Parallele Iniziano questi Importanti lavori Che servono Per realizzare Quello che mancava Di questa rotatoria Alle mie spalle Che appunto Sorgerà Nell'innesto Tra la Via Carlo Pisacane Vicino alla Caserma Dei carabinieri Con via Viale Vittorio Veneto Che è la via Che passa Di fronte All'ospedale Quindi Sono tutte e due Arterie Molto importanti Quindi Qualche giorno Di pazienza Per i cittadini Nifanesi Che però Avranno La direzione Nord-Sud Diciamo Libera Rallentata Ma libera Ed è impossibile Scendere Da viale Vittorio Veneto E mettersi Nella Statale Finché ci saranno Questi lavori Ci sono delle deviazioni Su via Giuglini Su via Mariotti Per cui Insomma Qualche disagio Ci sarà Ma alla fine Avremo una rotatoria Importantissima Che risolverà Un importante Nodo di traffico Dalla nostra città Perché Era Questo incrocio A T Era molto Pericoloso L'accordo Tra il comune Di Fano E la proprietà Prevede La realizzazione Anche di una serie Di interventi Come il potenziamento Del tratto Di acquedotto Da viale Vittorio Veneto Su via Carlo Pisacane Una nuova Illuminazione Pubblica LED Un impianto Di smaltimento Delle acque Meteoriche E un occhio Anche per i ciclisti I pedoni E gli automobilisti Si sta realizzando A fianco Della rotatoria Una pista ciclabile Molto larga Che sarà usata Ovviamente In forma Promiscua Anche dai pedoni E si realizzano Grazie Alla realizzazione Di un supermercato Nell'area Dell'ex Molino Albani Anche Un 140 Circa Posti auto Che serviranno Per tutti Quindi sono D'uso pubblico E che saranno Credo Spero Trovati molto utili Da tutti i cittadini Infanesi Quindi questa parte De città Cambia volto Finalmente Una rotatoria Risolve i problemi Di viabilità Di traffico Siamo molto contenti Perché attraverso Questa realizzazione E attraverso La convenzione Che il comune Di Fanno Ha firmato Con l'impresa Che realizza Il supermercato Abbiamo ottenuto Grandi vantaggi Anche per la collettività E adesso parliamo invece Della riattivazione Della vecchia linea Ferroviaria Fanno Urbino Esprime soddisfazione Il capogruppo Della Lega Sandro Zaffiri Per l'approvazione All'unanimità In consiglio regionale Della mozione Che aveva presentato Nel marzo scorso L'atto Spiega Zaffiri Impegna la giunta Sia a proteggere La ferrovia Fanno Urbino Salvaguardando Il tracciato Le sue opere D'arte Sia ad attivarsi Alla realizzazione Della ferrovia turistica Incrementando I finanziamenti statali Sul progetto Di pista ciclabile Zaffiri È convinto Che esistono Altre possibilità Di realizzarla Senza interferire Con la ferrovia E dalla ferrovia Alla superstrada Fanno Grosseto Che è stata inserita Tra le opere Prioritarie Del governo Oggi Ad esprimere soddisfazione È il deputato Roberto Rossini Del Movimento 5 Stelle I sindaci E le associazioni Assicura Rossini Potranno avanzare Le richieste Del commissario Straordinario Che verrà nominato Nei prossimi mesi Sentiamolo C'è davvero Una grande soddisfazione Nel vedere La Fanno Grosseto E la galleria Della Guinza Inserite Tra le opere Prioritarie Nel decreto Semplificazione È un'opera strategica Per tutto il tessuto Industriale E turistico Della nostra regione Ma anche per tutto il paese Questo è un traguardo Molto importante Raggiunto dal nostro governo Dopo che per tanti Troppi anni I governi precedenti Non hanno fatto niente C'è stato un po' Di immobilismo Rispetto a quest'opera Ora Dovrà essere nominato Un commissario straordinario Che avrà un ruolo fondamentale Così come l'abbiamo potuto Già vedere Nel Ponte Morandi E sarà Da collettore Sarà il punto di riferimento Per tutti i comuni Quindi tutti i sindaci Le associazioni Che potranno portare a lui Le loro richieste E avrà anche il quadro generale Di tutta la situazione Dello stato di avanzamento Dell'opera Il modello del commissario straordinario Era un modello fortemente voluto Dall'ex ministro Toninelli Che aveva già previsto questo Nello sblocca cantieri Noi tutti del Movimento 5 Stelle Dai parlamentari Ma anche i consiglieri comunali Abbiamo spinto Attraverso il sottosegretario Traversi Che ringrazio ancora una volta Abbiamo spinto Affinché poi si concretizzasse Con il Ponte Morandi Infatti Si è visto Che quando si va in deroga All'enorme burocrazia Che paralizza Il paese Il nostro paese La nostra macchina Viaggia veloce E riusciamo a dare risposte Concrete e importanti A tutti i cittadini E adesso Vi raccontiamo La storia di Cristian Cristian è un ristoratore Che ha compiuto Per la seconda volta Un nobile gesto Quello di donare Il suo plasma Iperimmune Per la seconda volta Ai malati Di Covid-19 Noi l'abbiamo incontrato È stata la seconda donazione Di plasma Iperimmune Quella di Cristian Marinelli 46 anni Il ristoratore Di Sant'Andrea In Villis Che ieri Si è recato All'ospedale San Salvatore Di Pesaro Per compiere Un ulteriore gesto Di solidarietà Iscritto All'Avis di Fano Da ormai 5 anni Cristian è stato Contagiato Dal coronavirus Lo scorso Mese di marzo Dopo la guarigione Ha dato la propria disponibilità Alla terapia sperimentale Ed è stato contattato Il 4 giugno La prima donazione Ieri la seconda Cristian a quanto pare È un campione di anticorpi Un caso davvero raro in Italia Allora io sono stato male Dal 6 marzo E diciamo Non ho fatto il tampone Non sono stato ricoverato Non ho fatto il tampone Ma mia moglie è stata ricoverata Ha fatto il tampone Quindi risultata positiva Lei Abbiamo dato per scontato Che ero positivo anch'io Ho fatto il percorso dei guariti E ho avuto i tamponi negativi Poi io sono donatore E ho chiesto Per poter donare il plasma Ho fatto Mi hanno fatto il siero positivo Il siero logico Ed è venuto fuori Che avevo tanti anticorpi Quindi oggi La seconda volta che dono E niente Spero di aver fatto Una cosa buona Nella provincia di Pesero Urbino Con il centro trasfusionale Di Marche Nord Sono stati esaminati Poco più di 200 candidati I donatori di questi Sono stati selezionati 101 guariti Sottoposti ad esami specifici Che hanno condotto Alla scelta di 56 soggetti Un grande lavoro Che ha permesso di ottenere Oltre 30 donazioni Destinate a crescere E far raggiungere Ben presso Il numero delle 40 sacche Previste dal progetto provinciale Ogni sacca viene suddivisa In altre 4 Che verranno conservate E congelate In un apposito macchinario A meno 60 gradi Pronte per essere utilizzate Per affrontare Un'eventuale seconda ondata Del virus Oppure i focolai Che si dovessero presentare Nei prossimi mesi Innanzitutto Donare il sangue Fa bene Per noi che doniamo E soprattutto facciamo del bene A chi lo riceve Quindi sto bene Io fisicamente Mentre dono E sto ancora meglio Sapendo che posso fare del bene Ad altre persone Possono donare i plasmi Iperimmune Solo le persone contagiate Guarite dal covid-19 Ma con una carica di anticorpi Sufficienta da portare Un beneficio sotto il profilo clinico Il donatore abituale Come Christian Ha avuto un percorso agevolato Tramite l'Avis Perché è sottoposto Periodicamente Ai controlli previsti Per scongiurare La trasmissione ematica Delle malattie Il candidato paziente Invece deve essere sottoposto A indagini preliminari E' necessario poi Avere un'età compresa Tra i 18 e i 60 anni Invito tutti A andare a donare Perché è una cosa Molto bella Molto importante Soprattutto veramente Si sta molto molto bene Dopo aver donato Ringraziamo Fano TV Per questo bellissimo intervento Oggi abbiamo Un nostro fantastico donatore Sono tutti fantastici Le nostre donatrici E i nostri donatori Che stanno rispondendo In modo portante A questa chiamata particolare Marco Savelli Non è voluto mancare A questa seconda Importante donazione Il presidente di Avis Fano Ha ringraziato Non solo Christian Ma tutti i donatori Che si sono resi disponibili Oggi abbiamo Un papà Un uomo Che per la seconda volta Dona il plasma iperimmune Quindi per la seconda volta Dedica veramente Del suo Togliendo Tanto spazio Anche alla sua vita Lavorativa Per far sì Che in un futuro Questo plasma Possa servire Speriamo tanto Di no Ma se succederà Possa servire Per curare Gli ammalati Di covid Noi siamo qua Per ringraziare Queste bellissime persone Che stanno Dedicando il loro tempo Per curare Questa maledetta Iberichina malattia Che è il covid Questo virus Che ha colpito La nostra provincia Questo periodo Ricorda il presidente Ha colpito anche Il mondo delle donazioni Rimane sempre importante Infatti avere sangue e plasma A disposizione dei medici Non solo nei reparti E nelle sale operatorie Ma anche per curare Le patologie Diverse dal covid 19 Sappiamo degli sforzi Che stanno facendo Le dottoresse I dottori medici E anche le infermiere E i tecnici Del laboratorio Stanno facendo Delle straordinarie In tanti Sappiamo che Quasi non sono andate in ferie In questo periodo Di covid Vuol dire che mancano medici Quindi ancora più Uno sforzo Dal mondo ospedaliero Per venire incontro A medici Infermieri E tutti quelli Che sono i tecnici Del laboratorio Perché abbiamo bisogno Altrimenti Il mondo sanitario Dovrà farsi Dei punti interrogativi Per il prossimo futuro Del mondo Delle trasfusioni Delle donazioni E del volontariato Noi ci crediamo Noi rappresentiamo Una piccola Avis Seppur Nel nostro territorio Importante come Avis Fano Sapendo che anche Avis Pesaro E tutte le altre Trenta e passa Avis Della provincia Si stanno impegnando Tantissimo Questo impegno Deve venire anche Dal mondo aziendale Dato che è un'azienda Ospedaliera Impegniamoci tutti Nell'assumere Personale sanitario E adesso parliamo E adesso parliamo invece Di turismo Perché da oggi Il Comune di Fano Ha attivato Un nuovo portale Dedicato ai turisti Turisti che vogliono Venire a visitare La nostra città Si chiama Visitfano.app E in questo sito Sono a disposizione Tutte le informazioni Necessarie Vediamo Visitfano.app È la nuova pagina web Specificamente strutturata Per la promozione E organizzazione Delle attività turistiche Del Comune di Fano Una pagina online Dove con pochi click Il turista avrà accesso A tutte le informazioni Di cui necessita Su Fano Sugli eventi Sulle strutture Ricettive Di ristorazione Viviamo un periodo Dove le cose Cambiano tutti i giorni E per questo Che abbiamo pensato Di creare Un contesto digitale Nel quale Le informazioni Potessero essere Cambiate in modo costante Ed essere Direttamente appetibili Al turista Ecco perché nasce La landing page Visitfano.app Dove il turista Può trovare L'informazione essenziale Dove dormire Dove mangiare E cosa fare Viviamo In un anno Dove utilizzare Il cartaccio E' veramente difficile Anche perché Deve essere monouso E per quello Che sui tavolini Dei locali All'interno degli IAT Si troveranno Dei QR code Dove coloro Che sono più digitali Potranno entrare All'interno E vedere In tempo reale Quelli che sono I programmi Quelli che sono Le attività Della città di Fano Visitfano.app Grazie alla collaborazione Con Maggioli Cultura E con l'applicazione Prenotiamo.app Darà la possibilità Anche alle attività Turistiche Di inserire La propria struttura Con pochi passaggi E creare una vetrina Online Con tutte le offerte A partire dai menu Dare la possibilità Ai propri clienti Di prenotare online E inserire i diversi eventi Che vengono svolte All'interno del locale In più Una sezione dedicata Anche al personale Con volti Di chi compone L'organico Dell'attività La piattaforma La piattaforma web Avrà anche Una sezione dedicata Alle strutture Ricettive Il turista Potrà visionare La guida All'ospitalità Che contiene nomi Recapiti telefonici E posizioni di alberghi Hotel e bed and breakfast Della città All'interno del sito Completamente gratuito Verranno inseriti Anche gli eventi E manifestazioni È un'estate Piena di eventi Se pensiamo Al mese di luglio Musicale Dall'orchestra sinfonica Al jazz Dal 24 al 31 luglio Il mese di agosto Vedo un'importante novità Che è Fano Fellini Una settimana Completamente dedicata Al maestro Fellini Con una settimana Di cinema All'aria aperta Alla rocca malatestiana E anche il mese Della musica tradizionale Perché tutti i venerdì A Santa Maria Nuova Non perdiamo quest'anno La tradizionale Concertistico d'organo E dal 2 al 6 settembre I concerti internazionali Polifonici Continuano Il loro importante programma E per i turisti Che verranno a Fano Dalle grandi città Ci sarà la possibilità Di giocare a padel Questa specie di tennis Che sta andando In voga Ed è di moda Appunto Nei grandi centri A Fano Sono stati inaugurati I nuovi campi Nella zona del Lido Taglio del nastro Per il nuovo impianto Dei campi da padel Cielo aperto Nella pista polivalente In zona Lida A Fano Un'area fitness Di circa 1000 metri quadrati I tre nuovi campi Lunghi 20 E larghi 10 metri Saranno dedicati Agli appassionati Di questo sport E non solo Molto di voga Nelle grandi città Si tratta Di una nuova forma Di tennis Che si gioca Con racchette forate I nuovi campi Sono stati istituiti Dalla collaborazione Con Alma Juventus Fano E l'associazione Now Padel Che gestirà la struttura Primi in provincia A portare questo tipo di sport Padel è uno sport Che sta esplodendo Ora in Italia Ed è già molto conosciuto A livello internazionale Soprattutto in Spagna È un derivato del tennis Possiamo dire al pari Del beach tennis Del badminton E dello squash E è un campo di tennis Con dei vetri intorno Perimetrali E il vantaggio Rispetto al tennis È che è un po' più facile A livello amatoriale Perché i vetri consentono Una giocabilità maggiore Per accedere alla struttura Chiaramente Si può venire qua In loco Quindi siamo di fronte A Lido 3 Nella passeggiata Via le Simonette di Fano E poi abbiamo I nostri canali social Quindi Instagram Facebook A breve anche TikTok Per i più giovani E chiaramente C'è un numero di telefono Che si può trovare Facendo una semplice Ricerca su Google All'inaugurazione Presenti il sindaco E l'assessore del Bianco Che hanno di fatto Inaugurato I tre campi panoramici Con una prima prova dimostrativa Questa è una trasformazione Urbanistica Vera e propria Come amministrazione Ci abbiamo creduto da subito Non è solo paddol Ma è anche polisportiva Perché sono coinvolti Tantissimi ragazzi C'è uno staff davvero Giovane e intraprendente Che ha saputo ideare Una cosa nuova Innovativa Anche alla luce Del nuovo ponte Del Lido Questa è una zona Davvero riqualificata Che dà spazio A uno sport Di cui si sente tanto parlare E la città di Fano È molto curiosa Anche di conoscerlo Le prove in campo Sono proseguite Anche per i presenti All'inaugurazione Con i maestri del club Il nuovo impianto È dotato anche Di una zona fitness Dove saranno organizzate Attività di yoga Calixtenics Pilates E personal training E adesso ci spostiamo Invece a Pesaro Per seguire Uno degli sport Più amati E tradizionali Della città Pesarese Ovvero il basket Perché questa mattina È stato presentato Il nuovo giocatore Della Carpegna Prosciutto Ovvero Carlos Delfino E lo abbiamo intervistato È un ottimo giocatore Nel corso della sua carriera Ha affrontato sfide Di altissimo livello Siamo contenti E orgogliosi Benvenuto a Pesaro Sono le parole Di Ario Costa Presidente Della Carpegna Prosciutto Basket Che oggi ha accolto E presentato alla stampa Il nuovo giocatore Carlos Delfino Il vincitore Nel 2004 Della medaglia d'oro Alle Olimpiadi Di Atene Con la maglia Della nazionale argentina Ha le idee chiare In vista della prossima stagione Punto a giocare La mia quinta Olimpiade Ha dichiarato Sono ottimista E mi piacciono le sfide A Pesaro Ha detto Delfino Si respira una grande passione Per la palla canestro Sono molto contento Di essere qui Quindi Veramente Carico Carico Non vedo l'ora Di andare in campo Non vedo l'ora Di giocare Spero di Di riuscire A A Asprimermi Sia dentro Che fuori il campo Tenere la squadra pronta A giocare Penso che sia Sia da quelli più sperimentati In questo caso Sicuramente sarò io Quello più grande O uno dei più grandi Sarà un compito Da portare avanti La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Anche grazie alla firma Di Carlos Sta iniziando Ad avere un grande seguito In America Latina Come dimostrano Gli ottimi dati Registrati Nei giorni scorsi Dai canali social Del club In tanti Mi stanno chiamando Dall'Argentina Per delle interviste Ha raccontato Carlos Sono sicuro Che la VL Avrà tanti tifosi Sudamericani Non vedo l'ora Che si riesca A avere quel palazzo Con tutti i tifosi Dentro Perché aiutano Sono sempre Un sesto uomo E ci tengo Da sudamericano Da argentino Sicuramente C'è sempre questa voglia C'è sempre questo sangue Passione Da andare avanti E da fare bene Dentro il campo E spero Ci sia Una Una buona Una buona squadra Tra i giocatori I tifosi E possiamo Rifare una Una bella stagione Insieme Ecco la pagina sportiva Chiudiamo qui Il nostro telegiornale Grazie per averci seguito Occhio notizia Torna domani Mentre domani mattina Alle sette In diretta Abbiamo la rassegna stampa Occhio giornali Grazie per essere stati con noi Buon proseguimento E arrivederci